La parola metaverso è una delle parole più utilizzate e discusse negli ultimi mesi. Oggi voglio portarvi l'analisi del metaverso più grande nel mondo delle criptovalute, andandone ad analizzare i punti di forza, i punti di debolezza e le potenzialità. Sto parlando di The Sandbox. Ah, prima di iniziare con l'analisi, nel mondo delle criptovalute è facile essere sommersi da troppe informazioni, quindi abbiamo deciso di lanciare la nostra newsletter per poterti aiutare a filtrare le buone notizie dalle cattive notizie e la buona notizia per te è che questo servizio è gratis. Per registrarti ti basta fare due click, trovi il link qui sotto in descrizione. Cos'è e come funziona? The Sandbox è un mondo virtuale basato su blockchain che consente agli utenti di creare, costruire, acquistare e vendere delle risorse digitali sotto forma di gioco. Il modello su cui si basa la piattaforma è quello del play to earn, ossia del giocare e guadagnare. Devi sapere che la sua mappa è composta da 166.464 pixel e ogni pixel equivale ad una terra. Chiunque può comprare un pixel o anche più di uno, le terre principalmente vengono utilizzate per creare delle esperienze di gioco. Sono di proprietà dei giocatori e i giocatori possono anche decidere di metterle a rendita, quindi in affitto sostanzialmente, per poterle dare ad un altro creatore che creerà un'esperienza sulla terra del proprietario, dandogli appunto una parte del proprio guadagno. Ogni terra viene fornita con dei set preconfezionati, ma è totalmente personalizzabile. L'ecosistema di gioco Sandbox è costituito da tre prodotti principali, che sono il Vox Edit, il Game Editor e il Marketplace. Vox Edit è un pacchetto di modellazione voxel 3D per poterti aiutare a costruire i tuoi personaggi, ma anche gli oggetti, senza la necessità di saper programmare. The Sandbox ti fornisce questo editor per creare qualsiasi tipo di oggetto per il loro metaverso. Il Game Editor invece è quello che ti permette di inserire le tue creazioni, o anche NFT che già possiedi, dentro le tue terre. E il Game Maker permette di implementare delle dinamiche e delle meccaniche di gioco, ad esempio quale il movimento di alcuni oggetti, nemici che saltano fuori, trappole, labirinti e molto altro. Proprio per avere l'obiettivo di creare un'esperienza unica per il giocatore. E infine c'è il Marketplace, che non è nient'altro che il mercato, dove le persone possono vendere gli asset che hanno realizzato. Gli asset che vengono realizzati utilizzano lo standard RC1155. Questo tipo di contratto permette di creare diverse copie dello stesso token, quindi dello stesso NFT. E proprio grazie all'utilizzo degli NFT, gli utenti hanno diversi benefici. Primo tra tutti una vera e propria proprietà digitale. Una volta che tu hai l'NFT, è tuo al 100%, non ti può essere confiscato in nessun modo. A meno che ovviamente non cadi in una truffa e lì vabbè, sono affari tuoi. Gli NFT inoltre garantiscono sicurezza e immutabilità. Inoltre gli NFT permettono appunto di fare trading, quindi di essere comprati, venduti, scambiati o regalati. E infine, una cosa da non sottovalutare, è il fatto dell'interoperabilità. Ossia, grazie proprio a questi standard che vengono utilizzati, anche diversi NFT di altri progetti possono essere utilizzati all'interno di The Sandbox. E la cosa bella è che questi NFT possono essere usati proprio come avatar. The Sandbox è stato lanciato nel 2011 da Pixel All ed è stato acquistato da Animoca Brand nel 2018. Il team. I due fondatori sono Arthur Madrid e Sebastian Bourget. Entrambi fondatori di Pixel All e hanno diversi anni all'attivo nel campo della blockchain. Inoltre il team di The Sandbox è ramificato in tutto il mondo, tra persone che lavorano negli uffici della Francia, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea, Argentina e anche persone che invece lavorano semplicemente in remoto. La Tokenomics. Sand è il token di utilità utilizzato nel mondo The Sandbox. È un token di utilità RC20 basato sulla rete di Ethereum. Al momento della registrazione il prezzo di un singolo Sand si aggira tra i 75 e gli 80 centesimi di dollaro, con un picco massimo di 8.45 dollari toccato nel novembre del 2021. Al momento si trova a meno 90% dal punto massimo. La capitalizzazione di mercato si aggira intorno al miliardo e 200 milioni di dollari, mentre completamente diluita intorno ai 2 miliardi e 500 milioni di dollari. La fornitura totale di Sand è di 3 miliardi, di cui in circolazione ce ne sono il 50%, quindi un miliardo e mezzo di Sand sono già in circolo. Una curiosità che potrebbe fare rosicare molti è il fatto che il token Sand è stato lanciato su Binance tramite Launchpad nel 2020, con un prezzo di un singolo Sand di 0,008 al prezzo di oggi, dopo un meno 90%, si parla di un oltre 100 per. Con un picco massimo di quasi mille volte l'importo investito. Non male come ritorna in due anni. Questo invece è come è stato distribuito il token Sand, ed è importante sapere che la parte riservata alle private sale, ai founders, al team e agli advisor è bloccata e verrà rilasciata nell'arco dei prossimi 5 anni. Qui appunto ti mostro come verrà emesso il token Sand nei prossimi 3 anni, e in teoria entro 2025 tutti i Sand dovrebbero essere in circolazione. Gli usi del token Sand sono quello di poter personalizzare il proprio avatar, comprare nuovi oggetti, eventualmente spendere alcuni Sand per accedere a delle esperienze, e allo stesso tempo però guadagnare token Sand. Inoltre gli artisti possono spendere il token Sand per comprare delle gemme e dei catalizzatori, per aumentare la rarità degli asset creati. Inoltre Sand può essere utilizzato come governance, quindi per prendere decisioni legate al progetto, e può anche essere messo in staking, quindi guadagnare un interesse annuo, che al momento si aggira intorno al 13%. Esiste un modello di cattura delle commissioni, tramite il quale il 5% di tutte le commissioni generate all'interno del mondo dei Sandbox vanno splittate in questa maniera. 50% direttamente alla compagnia, e l'altro 50% va direttamente alla fondazione. La fondazione si occupa di incentivare lo sviluppo del gioco, creare un'economia fiorente, e soprattutto fare partnership, quindi collaborazioni, tra diversi brand. Ecosistema e potenziale. Di sicuro con The Sandbox le collaborazioni non mancano. L'ultima collaborazione è stata con AXA nel settembre del 2022. È un assicuratore leader nel mondo, con sede a Hong Kong, e ha acquistato una land 3x3, sul quale fornirà uno spazio interattivo per i propri clienti. Collaborazione del 9 agosto è stata fatta con Paris Hilton. Credo che non abbia bisogno di presentazioni, ma la cosa bella appunto è che gli utenti potranno interagire direttamente con lei e con le proprie esperienze di gioco. A luglio è stata fatta una partnership con una casa di gioco che si chiama Gravity, per portare Ragnarok su The Sandbox. Non mancano anche le collaborazioni con artisti, in questo caso con un DJ e un artista di graffiti dal nome Alec Monopoli, con l'idea di portare le sue opere nel mondo reale all'interno di The Sandbox. Sempre a luglio è stata fatta una collaborazione con Tony Hawk, che ha acquistato diversi lotti di terra, 6x6, per creare lo skate park più grande di tutto il metaverso. Anche le banche non mancano l'opportunità di entrare nel metaverso. Infatti a luglio è stata siglata una partnership con HANA Bank. Per gli amanti delle cose un po' più spinte, The Sandbox ha stretto anche una partnership con Playboy. E infine, per chi non lo sapesse, l'anno scorso ha stretto anche partnership con Snoop Dogg, Deadmau5 e Richie Houghton. Inoltre ho sentito da un'intervista del fondatore che al momento i partner di The Sandbox sono oltre 400, tra cui Hell's Kitchen, The Walking Dead, Adidas, Atari e tantissimi altri brand super importanti. Salute del Network Purtroppo non sono riuscito, nonostante le mie richieste ripetute al team, di poter monitorare in diretta i dati di The Sandbox. Quindi per quanto riguarda l'utenza giornaliera, l'utenza mensile, le ore giocate, eccetera. Però un paio di giorni fa hanno pubblicato dal loro Twitter ufficiale diversi dati. Ad esempio gli utenti giornalieri sono all'incirca 40.000, gli utenti mensili si aggirano intorno ai 200.000, sono stati messi in staking oltre 128 milioni di sand e sono state giocate oltre 1.6 milioni di ore. Secondo me non sono delle metriche affatto malvagie. Considerando appunto che siamo ancora in alfa e questa è la terza season, quindi la terza stagione, devi sapere che ogni stagione permette di guadagnare delle ricompense e in questo caso, oltre alle ricompense base del gioco, ci sono anche delle ricompense aggiuntive per quanto riguarda la classifica globale, di cui il primo prende all'incirca 30.000 sand, pari a 24-25 mila dollari, quindi non proprio bruscoletti. Qui è possibile notare la roadmap per quanto riguarda il 2022 e il 2023. Mi sento di dire che secondo me per quanto riguarda la roadmap sono leggermente indietro perché il multi console non è ancora arrivato. Ho sentito un'intervista recente del fondatore dove ha detto che The Sandbox arriverà su telefono nel 2023 e inoltre il loro obiettivo era quello di arrivare a mille giochi, mentre sempre a detta del fondatore, in questa intervista di un mese fa circa, le esperienze di gioco al momento sono poco più di 100. Qui un dato positivo è il fatto che il numero di holders del token SAND è in continuo aumento negli ultimi tre mesi. Il giudizio finale Sapete che a me piace essere molto diretto e molto oggettivo nei miei giudizi. Al momento reputo The Sandbox qualcosa di ancora acerbo, nel senso che graficamente utilizza una grafica stile Minecraft, che è evoluta, però siamo ancora lontani da un concept futuristico. Ma di sicuro stiamo mettendo le fondamenta per qualcosa che potrà essere veramente, veramente enorme. Al di là della grafica, io vedo in The Sandbox un potenziale infinito. Proprio per il fatto sia di poter interconnettere i vari NFT tra di loro, sia per il fatto di creare esperienze di gioco su migliaia e migliaia di terre, non dimentichiamoci che ce ne sono oltre 166.000, e inoltre una cosa bellissima è il fatto che nel metaverso si creerà una vera e propria economia. Le persone possono già adesso mettere in mostra i propri NFT, e le persone che entrano nel metaverso possono interagire con queste NFT e comprarle direttamente. Quindi è come se fosse una vetrina sul mondo. E per il momento questo è rilegato semplicemente agli NFT, ma un domani, come abbiamo visto, stanno entrando banche, assicurazioni, sta entrando di tutto. Vedo altamente probabile il fatto che si interagisca direttamente nel metaverso per poter acquistare anche dei beni reali, quali assicurazioni, aprire conti bancari, spostare soldi, ordinare qualsiasi tipo di merchandising a casa propria. E questo secondo me è qualcosa che andrà a rivoluzionare il concetto di economia per come lo conosciamo. Una cosa a cui bisogna prestare attenzione è il fatto che il token SEND è stato emesso solo per il 50%, quindi nei prossimi anni ci possiamo aspettare un'inflazione abbastanza alta, in quanto verranno rilasciati tutti i token entro il 2025. Ma una cosa che mi ha gasato ancora di più è il fatto che dal loro Discord ufficiale, ho letto questa cosa, sostanzialmente dice che The Sandbox è una piattaforma decentralizzata fatta dai giocatori per i giocatori. Quindi entro 5 anni dal lancio pubblico del gioco, l'obiettivo è quello di rendere il 100% delle terre e dei token SEND in possesso dei giocatori, perché loro credono nella vera decentralizzazione e anche noi, come veri malati di cripto, crediamo nella vera decentralizzazione. Non posso che augurare un futuro roseo a The Sandbox, occhi puntati su questo progetto perché potrebbe riservare delle bellissime sorprese in futuro. Se l'analisi ti è piaciuta, lascia un like a questo video, iscriviti al canale e per qualsiasi dubbio o domanda rimango a disposizione nei commenti. Ciao malati di cripto, noi ci vediamo alla prossima!